balocchi o tarocchi donare non è regalare di sottile differenza nel parlare quotidiano ma di profonda disuguaglianza nel pensare umano si dona una parte di noi in un sentimento in un istante in un abbraccio in un bacio in uno sguardo in un sorriso in un pensiero in una carezza si regala un oggetto uno scarto un niente un dolore una cattiveria una menzogna chi dona non aspetta il ritorno chi regala al suo torna conto più doni danno dipendenza e meno regali creano distanza generosità con parsimonia sembra sia il giusto equilibrio